Il toccante dramma di Silvia Salemi, la malattia e la morte della sorella. Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale. Oggi parleremo di un argomento toccante e profondo, il dramma vissuto da Silvia Salemi a causa della malattia e della scomparsa della sua adorata sorella. Se sei nuovo qui, ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere i nostri futuri video. Silvia Salemi, nota cantautrice italiana, ha vissuto una tragedia personale legata alla malattia e alla perdita della sua cara sorella Laura. Laura è scomparsa a causa di leucemia mieloide quando Silvia era ancora una bambina, lasciando un vuoto indelebile nella vita della famiglia Salemi. Silvia ha condiviso il suo dolore e il ricordo della sua amata sorella in una toccante confessione. Ha raccontato come la sua casa sia stata segnata da questa tragica esperienza e come il dolore abbia trasformato il suo silenzio interiore. Solo dopo aver trovato una registrazione della voce di Laura, Silvia ha trovato la forza di ricominciare a parlare. Nella registrazione, Laura aveva lasciato un messaggio che ha cambiato profondamente la vita di Silvia. Questo momento sconvolgente ha segnato l'inizio di una nuova fase per Silvia, che ha ritrovato la sua voce e il suo coraggio grazie all'influenza e alla guida spirituale della sua amata sorella. Voglio sentire anche la tua opinione su questa storia toccante. Condividi con noi i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e partecipa alla discussione. E con questo abbiamo concluso il nostro video. Spero che questa storia abbia toccato anche voi, come ha toccato me. Se ti è piaciuto il video, non dimenticare di lasciare un like e iscriverti al canale per rimanere aggiornato su altri contenuti emozionanti. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video!